Ciao a tutti! Siamo qui a Mamminsol pronte a ricominciare con un nuovo anno pieno di musica. Le iscrizioni sono già aperte, potete trovare tutti i contatti per telefonarci e iscriverci sul sito. Ed è pronta lì la coccinella che giocherà con noi tutto l'anno. Siete pronti? Sì! Vola, 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 sempre più su, sulla mia schiena vola anche tu. Ciao a tutti!